si va ci siamo dovuti fare tutte le torricelle e insomma per arrivare al punto di partenza dove parto io di solito mannaggia da casa mia quindi aggiungiamo quei 7 8 10 minuti di macchina extra in sostanza però mannaggia guardate ora inizia il traffico cosa che io avrei evitato da casa mia e niente ragazzi adesso si va al lavoro e rivedrò ai miei colleghi dopo un mese alla fine perché dal 2 l'ultima volta che li ho visti era il 2 agosto mi pare quindi ora siamo il 2 settembre quindi un mese fa un mese fa ragazzi ma questo vuol dire anche che aprono il ristorante quindi non vedo l'ora oggi di andare fuori a mangiare pranzo oddio cos'è la macchina di google quella ci sono un paio di sensoritti buon salve ragazzi buongiorno buongiorno allora lavoro finito si torna a casa oggi è lunedì e come sapete lunedì per me sono sempre estremamente impegnativi oltretutto oggi sono a casa della mia amica e quindi speriamo ci sia wifi abbastanza potente da poter scaricare tutti i video del canale youtube americano che poi dovrò editare quindi devo fare questo devo dare da mangiare ai gatti le bestie e quant'altro e prima devo andare a fare un salto in agenzia quindi vado ora diretto finchè è aperta e niente ragazzi questa per adesso è la routine questa è tornata la vita si muore di caldo oggi a pranzo ho mangiato dovevo mangiare poco ma in verità avendo mangiato solo due mela colazione avevo parecchio fame quindi mi sono mangiato una buonissima pasta fredda col pesto e lo speck e le noci e comodorini poi dopo di quello mangiato delle costine al barbecue con patate e per ultimo dell'insalata cioè giusto per sentirci un pochino sani e andare a sanare tutta l'insalata che non ho mangiato nell'ultimo mese visto che appunto sono stato via dal lavoro un mese che non andava in ufficio a parte venne discorso ma comunque il ristorante era chiuso e quindi e mi sono mangiato solo delle piadine delle piadine al lavoro e morta lì e adesso torniamo a casa facciamo tutte le cose che ho elencato prima ragazzi e poi si inizia a lavorare di nuovo non si butta via un secondo non si può oggi è di un noioso da editare sono 17 minuti totali di tweet di ilon musk c'è una cosa sconsiderevole non non ce la faccio più di aggiungere sta roba e ne ho un sacco di video ancora un sacco di clips da fare cioè non sono neanche no non sono neanche a metà sono qua da un'ora mannaggia no aspetta meno di un'ora da quando sono qua beh quasi quasi un'ora signori sono esattamente le 22 di sera io sto appena finito di lavorare dopo due ore e 55 minuti io come c'era mi mangio solo del merluzzo scalato in forno e e basta cioè questa è la mia cena sto veramente uno morello di fame due occhi che esplodono e non sono riuscito a cucinare ma come sapete lunedì sono così per me sono assolutamente così e non c'è nulla da fare va bene ragazzi io inizio un po' a mangiare poi magari oltre a questo mi faccio delle verdurine magari un minimo vediamo dai a dopo ragazzi la giornata volge al termine io vi invito di mettere mi piace commentare iscrivetevi al canale attivate la campanella e noi ci vediamo nel video di domani che spero sia un pochino più movimentato anche perché lavorerò qua da remoto domani e non dovrò stare decisamente 12 ore davanti uno schermo a lavorare cioè il lunedì per me sono allucinanti ragazzi non li auguro a nessuno o meglio no non li auguro e sono morto sono decisamente morto